A caporale, uomo del momento. A caporale, uomo del momento. A capora, 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 uomo del momento. E questa posso venderla. Potrebbe servirmi. A capora, uomo del momento. A caporale, uomo del momento. Se non fai progressi, dovrò tagliare risorse dal tuo progetto per assegnarle a lui. È chiaro, tenente? Sì, colonnello, signore. Buon lavoro. Tutto bene. Tutto bene, sembra che... Scusa, devo andare. Arrottami. Arrottami. Perfetto. Grazie. 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 Sì. 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 Sì! Grazie a tutti. 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 E poi devo finire di bruciare questi nidi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok... Merda, sono secco. Grazie a tutti. Ok... 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 Grazie a tutti. 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 Non vi dico proprio... un cazzo. Un cazzo. No, 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 no! Vediamo... forza... Forza entra! Ok, è andato. Perfetto. Non si muove! Facciamo... Facciamo... Forza entra... Un cazzo. 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 Ehi bello, esci qua, non rendere tutto ancora più complicato, vogliamo tutti la stessa cosa, no? Perché letigare? Ti vediamo amici, c'è qualcosa? Sono finiti? Era, era l'ultimo, devo trovare un modo per entrare Del carburante Perfetto Così dovrebbe andare Queste le prendo io Una passeggiata Ma cazzo, no, scherzo! Non può finire questa arma Ma cazzo, no, scherzo, no, scherzo! Che la, meredizione! Ok Ok. Buona passeggiata. No, cazzo no! No, cazzo no! No, cazzo no! No, cazzo no! Cazzo no! No, cazzo no! No, cazzo no! Cazzo no! Come va, Taylor? Beh, ho visto giorni migliori, se devo essere onesto. Sì, chiaro. Gesù. Ok? Ascolta, amico. Tieni questo premuto sulla testa, così. Ok, sì. Aspetta qui, contatterò il capitano Curi che manderà qualcuno a prenderti, ok? Ok, va bene, sì, sì. Ok. 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 Ok.